40 chilometri tra strade bianche, sentieri boschivi, strade a bassa circolazione. Seconda edizione per la Bike for Parkinson's, iniziativa organizzata dall'associazione Amici Bici Gallarate e in programma domenica 23. Una pedalata libera tra Cassano Magnago e Gallarate. I fondi raccolti verranno devoluti ad Aspi, associazione Parkinson in Subria. Un percorso abbastanza facile, idoneo anche per i ragazzi giovani, da svolgersi in mountain bike. L'unico obbligo è utilizzare il casco e tanta voglia di pedalare. L'anno scorso, prima edizione, siamo stati più che soddisfatti, eravamo circa 35 persone. Quest'anno contiamo di raggiungere le 50, ma credo che saremmo piacevolmente sorpresi e che le adesioni siano maggiori. Visto l'interesse e le condivisioni che stiamo avendo attraverso i nostri social, contiamo di essere in tanti. Dicevamo l'obiettivo è aiutare l'associazione Parkinson, dunque un'iscrezione simbolica di 10 euro. Il denaro raccolto verrà appunto devoluto all'associazione. Sì, assolutamente sì. La cosa più importante è far conoscere questa associazione. Contestualmente appunto vogliamo comunque aiutarli raccogliendo questi 10 euro che verranno donati a loro in modo tale che possano utilizzarli per le magnifiche iniziative che comunque ogni anno portano avanti. Grazie a tutti.